L'US può contare sull'aiuto degli studenti universitari in questo difficile periodo? Sì, chiaramente in questa fase di emergenza abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le persone che ovviamente adeguatamente formate possono dare una mano sul fronte della battaglia al Covid. Una delle armi principali che abbiamo a disposizione come azienda è l'attività del SISP che consiste sia nella parte della diagnosi, delle positività e poi soprattutto in un grande lavoro di tracciamento dei contatti per porre queste persone in isolamento. Dopodiché c'è tutta l'attività di sorveglianza quotidiana delle persone poste in isolamento perché non siano lasciate sole e per avere informazioni sul loro stato di salute. Ecco, per questa attività serve un importante numero di persone che quotidianamente chiamano al telefono le persone, si fanno dare tutta una serie di informazioni e il SISP da solo non ce la faceva per cui abbiamo pensato di ricorrere alla collaborazione degli studenti dei corsi delle professioni sanitarie scienze infermieristiche, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di radiologia e della radioterapia. Un gruppo di queste persone sono state arruolate e operano nell'ambito del SISP presso la centrale per il tracciamento e la centrale per il monitoraggio con una collaborazione che per noi è importantissima e le ringrazio per il lavoro che fanno. Anche gli universitari a sostegno di questo difficile periodo? Sì, gli universitari stanno dando il loro contributo, come specificato dal direttore generale abbiamo anche alcuni studenti che si occupano di contact tracing. La cosa più bella di questo è che gli studenti nel frattempo si sono laureati quindi l'impegno orario dedicato a questa attività è passato da 20 a 35 ore. Abbiamo ancora qualche studente che sta dando una mano per questa attività indispensabile al fine di individuare i positivi e di conseguenza isolare i contatti stretti. Che attività svolgono questi studenti nello specifico? Allora, questi studenti hanno il primo compito molto importante di avvisare i soggetti positivi e di conseguenza indagare quali sono i loro contatti classificando questi contatti in contatti stretti o contatti non stretti. Di conseguenza, come da linea guida ministeriale, dare di disposizione per i contatti stretti che sono le persone più importanti, che devono essere isolati dalla collettività, testati e monitorati per un tempo indicato dal ministero. Di che facoltà sono questi studenti? Sono solitamente della facoltà di medicina sotto infermeristica. E che numero di studenti è stato utilizzato? Inizialmente siamo partiti con cinque studenti, quattro si sono laureati. In questo momento abbiamo un studente, una studentessa che è qui con noi, mentre un altro studente si occupa della sorveglianza attiva. Grazie. Vi ringraziamo. Grazie.